Livelli di polveri sottili alle stelle durante il fine settimana a Padova e così da martedì 5 marzo torna il semaforo arancione che impone le limitazioni sul traffico bloccando la circolazione dei diesel Euro 4. Un fine settimana con livelli che hanno superato abbondantemente i 100 microgrammi per metro cubo un mese di febbraio che purtroppo ha confermato le già pessime condizioni dell'aria che a gennaio avevano posizionato Padova ai primi posti della classifica delle città più inquinate d'Italia. Tornano le limitazioni ai veicoli dalle 8.30 alle 18.30 e agli impianti di riscaldamento ma tornano anche alcuni provvedimenti sperimentali. Ritornano gratuiti parcheggi scambiatori nord e sud appunto con questo programma sperimentale che abbiamo messo in atto nel momento in cui si arriva allo sforamento. Siamo al settimo giorno con i dati di ieri, i dati sono alti e abbiamo visto che quest'ultimo mese è stato veramente disastroso sul piano della qualità dell'aria. Provvedimenti che dureranno fino a venerdì in attesa del prossimo bollettino ARPAV previsto per giovedì. Visto l'andamento di quest'ultimo mese l'amministrazione comunale sta pensando di mettere in campo un piano d'azione per l'aria che prevede iniziative a lungo termine per contrastare l'inquinamento. Un piano di azioni a medio e lungo termine, l'aria non si affronta semplicemente con azioni a breve periodo e quindi stiamo ripartendo da tutti i dati che abbiamo per poi mettere assieme, il mio scopo è fare un vero e proprio pacchetto di azioni con tutto quello che possiamo fare e che arriva ad incidere sulla qualità dell'aria e quello che possiamo fare in più come amministrazione in modo da condividerlo e condividere un programma che vada oltre questo mandato e che possa incidere non solo a breve ma anche a medio termine sulla salute di tutti noi. Grazie. Grazie. Grazie.